Provo ad iniziare questa maratona, commentare i promessi sposi. Non so se riuscirò ad arrivare alla fine. So che è un'impresa non facile. Ho già rivisto l'introduzione dieci volte, ma nessuna delle introduzioni che ho proposto mi ha convinto. A questo punto ho deciso di provare e non rivedere più nulla di quello che posso in qualche modo registrare. Perché i promessi sposi? I promessi sposi sono un libro che io ho sempre amato. Fatta eccezione per il secondo anno di liceo, quando era l'oggetto del mio studio. Lo trovavo pesante, noioso, faticoso, insopportabile. Eppure con gli anni, rivedendolo, scoprì nei promessi sposi una ricchezza incredibile, ma una ricchezza inesauribile allo stesso tempo. Ecco perché per anni e anni lo adottai in terza media. In seconda adottavo un libro di Don Camillo e in prima cuore. E queste adozioni avevano una ragione ben precisa. Andando un po' controcorrente, oggi si vuole vedere a tutti i costi la lettura, finalizzata la lettura. La lettura deve piacere, quindi gli insegnanti fanno le capriole per trovare dei testi che possano piacere. L'ultimo anno nel quale insegnai dovetti sopportare Agata Cristi, adottata, perché oggi si devono fare le adozioni trasversali in tutte le classi. Pensate un po' a Agata Cristi, con tutto il rispetto per Agata Cristi. Un testo che non era dalla letteratura italiana e oltretutto un testo che, insomma, era semplicemente Agata Cristi un passatempo. Per me è importante, invece, che il libro di narrativa comunichi qualche cosa anche a questi giovani, ma non soltanto ai giovani, anche agli adulti. Ci aiuti a riflettere in qualche modo. Oggi è un tempo in cui la riflessione non ha presa sui telespettatori, sui lettori. Si vuole avere così il piacere di una lettura frivola, facile. Eppure le cose belle, le cose grandi, le cose profonde, non si riescono ad apprezzare la prima lettura. E, infatti, io cominciai ad apprezzare i promessi sposi in una seconda, terza, quarta, decima, ventesima, trentesima lettura. E, senza volerlo, io mi ero posto, fine ai primi anni di questa adozione, sulla stessa linea di Manzoni. Cioè, mi proponevo che attraverso la lettura potessi anche comunicare qualcosa ai miei alunni. E, infatti, Manzoni, nella sua poetica, insiste sulla finalità, sul fine. Il fine di un'opera d'arte, di un'opera letteraria, deve essere l'utilità. Senza escludere il mezzo, il mezzo deve essere piacevole, perché chi legge deve essere attratto. Deve essere attratto da questa lettura, non deve essere eccessivamente gravosa. E poi, l'oggetto o il soggetto, l'argomento che deve essere rivolto al vero, alla storia. E la storia proprio nella prospettiva ciceroniana, non proprio però, ma nella prospettiva ciceroniana come magistra vite. La storia come il campo del vero, nella prospettiva vicchiana, quel campo che noi possiamo conoscere veramente e che ci può essere di aiuto per non commettere gli stessi errori che hanno commesso i nostri progenitori. Quindi, vedete l'accoppiamento, un accoppiamento che io vedevo anche nel libro di Guareschi e nel libro di De Amicis. De Amicis ci presenta un'Italia che si sta unendo con tutte le sue difficoltà. Don Camillo, un dopoguerra difficile, ma egualmente carico di promesse se queste difficoltà fossero state prese con impegno, con coscienza, con amore. Non solidete troppo su Guareschi. In fondo, Guareschi è l'autore nostro italiano contemporaneo, o moderno, se vogliamo definirlo così, più letto in tutto il mondo. Guareschi è stato tradotto in 70-80 lingue. E non ridiamo neanche su cuore, anche se molti testi di letteratura lo definiscono sdolcinato, ormai superato. C'è il sentimento, c'è l'amore, non c'è solamente avventura, non c'è solamente il giallo, il piacere così che va e viene. C'è la riflessione, sempre la riflessione che è importante. Forse non sempre è condivisibile, ma è pur sempre riflessione su dei fatti che sono avvenuti, fatti reali, fatti storici, fatti che prendono in considerazione non i potenti, i grandi, ma la povera gente. Ecco allora che i promessi sposi proposti là, a quel tempo, nella terza media, volevano in qualche modo aiutare i ragazzi ad affrontare un'opera importante sotto un profilo culturale, ma anche aiutare i ragazzi a riflettere. Molti mi dissero allora, ma perché i promessi sposi in terza media? Poi questo autore sarà visto poi dai ragazzi nelle scuole superiori. Non è vero, a quel tempo non c'era ancora l'obbligo dei 16 anni, molti ragazzi sarebbero usciti dalla scuola media, che non avrebbero avuto l'occasione per niente neanche di conoscere l'opera più importante della nostra letteratura in prose. D'altra parte, anche per coloro che avrebbero continuato, è molto importante una lettura progressiva. Già io ho avuto l'occasione di insistere su questo sistema didattico, quando in altre occasioni ho detto che la storia dovrebbe essere conosciuta gradualmente, prima nelle elementari, poi nelle medie, poi nelle superiori, poi nell'università. Gli argomenti storici non si possono affrontare to court, specialmente quegli argomenti complessi, difficili, a volte anche ostici, si comprendono solamente se si rileggono. Ecco allora che se in terza media io adottavo i promessi sposi, c'era anche questo scopo, questo fine che mi proponevo. Alla lettura poi, al liceo, dei promessi sposi, alla rilettura, certamente le perle che ha distribuito per tanti anni Manzoni, sarebbero state accolte con maggiore consapevolezza e ci sarebbe stato un arricchimento, un arricchimento maggiore, più forte, più concreto, più consapevole. Ecco, questa è un'introduzione, introduzione anche al mio lavoro, che spero, ripeto, di portare a termini. Ma c'è l'introduzione all'opera stessa del Manzoni, come vedete, dove Manzoni si presenta in qualche modo e riporta proprio all'inizio, vedete, un passo di uno scritto che immagina di trovare nella biblioteca tra i vari incartamenti. Ora, io alcune decine di anni fa, non so però qual era esattamente il punto di riferimento, si diceva che in fondo non è stata questa semplicemente un'invenzione letteraria. Sappiamo che invenzioni di questo genere, specialmente allora, erano abbastanza frequenti. Sembra proprio che Manzoni abbia trovato questi scartafacce, abbia trovato questa storia che poi viene evidentemente rielaborata. E forse, forse, quel Don Rodrigo, questa figura così oscura della sua opera, forse era stato un suo bisnonno, un trisnonno. In ogni modo, queste sono ipotesi, ipotesi anche perché non saprei dove ripescarle. So di averle lette, però non mi ricordo più le fonti. Poco importa, tuttavia, non è questo che ci interessa. Ci interessa invece l'impostazione che dà Manzoni alla sua opera. Avrei voluto, al momento del commento, anche rileggerla assieme, ma rileggere tutti i promessi sposi diventerebbe un'impresa terribile. Forse avrei potuto tentare quest'impresa al tempo in cui insegnavo al liceo, con una brava ragazza, con una brava alunna, che leggesse questi passi, io li potessi poi commentare. Ma rileggerli io e poi commentarli sempre io risulterebbe qualcosa di abbastanza noioso. Quindi li presentiamo, li presento qui, ma non mi metto a leggerli tutti. Vediamo soltanto le cose che possono essere più interessanti. Dunque, l'istoria, dice Manzoni, riportando questo passo che secondo lui è stato ritrovato nella sua biblioteca, l'istoria si può veramente definire una guerra illustre contro il tempo, la storia. E' importante, ah, un'altra cosa, mi sono dimenticato di dire, come vedete non presento Manzoni, non mi metto a parlare della sua vita, della sua poetica, non voglio fare dei commenti anticipati ai promessi sposi, al Fermo Lucia, a Renzo Lucia, ai sposi promessi. Vediamoli un po' per volta, vediamo un po' per volta queste cose, proprio le ripeschiamo, le ritroviamo, perché Manzoni è un autore che non ha mai parlato di se stesso, è sempre stato molto riservato, però possiamo in qualche modo arrivare al suo pensiero, al suo cuore, proprio attraverso la sua opera. Poi, se qualcuno vuole inquadrarne le cose, insomma, un buon testo di letteratura, presenta, o anche un testo di Promessi Sposi, presenta le categorie letterarie di quest'opera, del romanticismo collegata alla stessa vita del nostro romanziere. Quindi, non è una dimenticanza questa, ma anche a scuola preferivo fare così, cioè arrivare alla conoscenza del Manzoni non attraverso una lettura steotipata, così, forse direi sclerotizzata, no? Che a volte dice niente, troppo astratta. Proviamo a vedere se riusciamo ad arrivare proprio all'uomo Manzoni attraverso la sua opera. Quindi, già vediamo questa parola, istoria, l'importanza che Manzoni dà alla storia. Pensate che negli ultimi decenni, quando poi avrà terminato i Promessi Sposi, non si impegnerà più in nessun'altra opera dello stesso genere, non scriverà più nessun romanzo, ma darà, addirittura alcuni critici ci parlano di un Manzoni che sembra quasi rinnegare gli stessi Promessi Sposi, dando più importanza agli avvenimenti storici per quello che sono, senza voler assolutamente inventare nulla. Tuttavia, qui la storia viene impastata assieme all'invenzione letteraria e la storia però diventa il soggetto o l'oggetto di tutta l'opera. E la storia, dice Manzoni, è l'espressione di una guerra contro il tempo. La storia cerca di riesumare in qualche modo avvenimenti che altrimenti sarebbero completamente dimenticati. Ricordatevi sempre che qui non è Manzoni che parla, ma è Manzoni che fa parlare questo scartafaccio, questo erudito che aveva portato nello scritto una storia, la storia che poi racconterà con altri termini il Manzoni stesso. Ma c'è questo ma che è importante. La storia che cosa fa? La storia per lo più ci presenta i principi, i potenti, i personaggi qualificati, le azioni gloriose. A questo anonimo, invece, che sia vero o che non sia vero, che sia un antifresi che già in qualche modo possiamo scorgere l'ironia del Manzoni, interessano la storia dei semplici. C'è scritto, però alla mia debolezza non è lecito sollevarsi a tal argomenti e suprimità pericolose con aggirarsi tra labirinti dei polinici vaneggi e il rimbombo dei bellici oricalchi. Io mi voglio occupare della gente semplice che qui viene definita con termine seicentesco meccanica di picciolo affare. Ecco, e allora l'oggetto del racconto si pone quasi in antitesi con la forma. La forma che è tutta secentesca. Pensate, l'anonimo cosa scrive? Il re cattolico nostro Signore che è quel sole pensate quante metafore che è quel sole che mai tramonta e che sopra di essi con riflesso lume quel luna già mai calante risplendea l'eroe di nobil prosapia che protempore ne tiene alle sue parti e gli amplissimi senatori quali stelle fisse e gli altri spettabili magistrati quali arruanti pianete spandono la luce per ogni dove quindi il cielo e la sua bellezza il sole no? le stelle fisse e poi queste discendenze i rappresentanti del sovrano i senatori ecco vengono presentati con queste metafore e la metafora voi sapete era uno strumento attraverso cui si presentava tutta la letteratura nostra del Seicento io ponevo sempre nel Seicento in rapporto in antitesi un marino no? con un Galilei Galilei serio no? nella sua opera e molto spesso venivano presentati questi due personaggi rappresentati nella loro allora non c'era ancora la fotografia ma nella loro rappresentazione quindi uno con un vestito severo era quello di Galilei l'altro invece tutto a merletti riccioli pizzi qual era Marino due stili completamente differenti e mentre la scienza che si proponeva con Galilei era una novità era un'alternativa la letteratura con Marino viveva di questi fronzoli e questi fronzoli si servivano della metafora una metafora fate avere attenzione non intesa alla maniera di Pascoli una metafora che o che poi verrà vista anche in montale con lo scopo di cogliere una verità sublime una verità alternativa un ubero nascosto ma una metafora che aveva soltanto il compito di maravigliare maravigliare come vedete non siamo molto lontani da oggi oggi si maraviglia in altro modo non con queste metafore forbite ma in modi forse ancora piuttosto volgari ecco Manzoni vedremo in seguito vuole allontanarsi da questo stile notate questo però alla mia dobolezza non è recito sollevarsi a tali argomenti potrebbe essere un'antifrasi con scopi ironici poi qui troviamo andiamo avanti non diciamo tutto per lo che descrivendo questo racconto avvenuto nei tempi di mia verde stagione e benché la più parte delle persone che vi rappresentano loro parti siano sparite dalla scena del mondo con rendersi tributali delle parche vedete anche queste sono delle non le vedremo tutte ma queste sono delle figure rettoriche sono delle perifrasi come per dire ormai queste persone questi uomini queste donne ormai sono morti no? io voglio presentarveli in egual modo né alcuno dirà questa sì imperfezione del racconto né deformità di questo mio rozzo parto a meno questo tale critico non si persona fatta digiunta dalla filosofia i nomi se non puri purissimi accidenti cosa ci dice l'anonimo ci dice vi presenterò questa storia e questa storia vedete che c'è un riferimento alla filosofia e questa storia è l'argomento fondamentale questa è la sostanza non vi voglio riferire dei nomi i nomi sono pure accidenti quindi prendete questa storia per quella che è per la sua per la sua forza per quello che ci vuole comunicare non non riprendetemi se non vi ho riportato in modo preciso i protagonisti di questo di questo racconto non sono importanti è importante la storia ed è infatti su questa importanza sull'importanza della storia che Manzoni riflette perché ecco qui dopo aver letto l'anonimo Manzoni comincia lui in prima persona ma quando io avrò durata l'eroica fatica di trascrivere questa storia da questo dilavato e graffiato ottografo questa è una metonimia no? e l'avrò data come si suol dire alla luce si troverà poi chi duri la fatica di leggerla l'obiettivo di Manzoni era in quel momento di portare avanti questa ricerca poi riprendere come fanno gli eruditi riprendere da queste noti antiche e riportare questi argomenti riportare alla luce la storia però vedete autografo dilavato e graffiato che è un'india di non ormai uno scritto con autografo con autografo si intende tutto tutto lo scritto dell'anonimo e questa la domanda di Manzoni è proprio questa ma dopo aver ripreso riportato alla luce questi avvenimenti c'è qualcuno poi che le leggerà? oppure questo stile del 600 oggi perché è uno stile falso non legato al vero quel vero propugnato dall'illuminismo ripreso dal romanticismo e riaffermato dal verismo non arricchito quindi dal vero non garantito dal vero non sarà dunque un'opera che nessuno poi avrà voglia di leggere quindi era già sul punto Manzoni di prendere il tutto e di metterlo da parte infatti leggiamo quella grandine di concettine di figure il buon secentista ha voluto sul principio mettere in mostra la sua virtù questi fronzoli merletti questi pizzi come scorretto idiotismi lombardi aiosa frasi della lingua adoperate a sproposito grammatica arbitraria periodi sgrancherati ed è qui tutto un progetto di linguismo è qui la proposta manzoniana basta con i merletti basta con le stravaganze prima scelta seconda basta con gli idiotismi che sono i regionalismi lombardi vi ricordate che Manzoni andò poi passando da fermo Lucia agli sposi promessi andò a lavare i suoi panni nell'arno proprio per dare all'Italia una nuova lingua una lingua unitaria è vero che con l'avvento poi della radio e della televisione tutto questo si realizzerà con maggiore facilità ma alla fine del XIX secolo inizio XX secolo ci si formerà su quest'opera si si formerà sull'opera di Manzoni si troverà una lingua comune proprio con la proposta manzoniana che parte da una lingua toscana moderna come fondamento no? come fondamento di una nuova lingua da offrire all'Italia e agli italiani quindi lui dice tanti fronzoli e poi dietro a questi fronzoli regionalismi grammatica arbitraria periodi sgangherati tutto rivolto ad eccitare la maraviglia e tanta retorica e contro la retorica Manzoni no ma la retorica deve essere anche questa discreta deve trovare una misura per cui ci troviamo di fronte ad un'opera se fosse stata presentata così come si presentava in quegli scartafacci rosa insieme affettata avete presente no? nel 600 pizzi merletti parrucche e poi c'era la manina che serviva per grattarsi perché la gente era piuttosto sporca i nobili signori erano sporchi sotto tutti quei pizzi merletti profumi e ciprie c'era la sporcizia quindi rozzo e insieme affettato fatto di declamazioni ampollose goffaggine ambiziosa che è il proprio carattere degli scritti di quel secolo non è cosa da presentare ai lettori d'oggigiorno sono troppo ammaliziati troppo disgustati di questo genere di stravaganze eppure non si poteva lasciare questa storia senza un seguito infatti dice la storia però era così bella era triste lasciarla sconosciuta e allora e allora inizia la fatica di Manzoni portare al mondo portare all'opera letteraria qualcosa che fosse garantito non da dei fronzoli dai merletti ma dal vero dalla storia quindi la sua ricerca una storia così bella dove scusate ci siamo messi a frugare nelle memorie di quel tempo e abbiamo perfino trovato alcuni personaggi dei quali non avendo mai avuto notizia fuori dal nostro manoscritto eravamo in dubbio se fossero realmente esistiti sì lo sappiamo i personaggi i grandi personaggi che percorrono quest'opera dall'innominato a Federico Borromeo sono esistiti veramente ma probabilmente sono esistiti anche i personaggi che non erano noti al mondo perciò un lavoro di ricerca perché ogni lavoro serio per Manzoni deve fondarsi sulla ricerca storica e quindi del vero e poi una ricerca per dare a quest'opera una nuova lingua rifiutando come intollerabile la dicitura del nostro dottore il modo di espriversi del nostro dottore ma come posso giustificare come avrei potuto giustificare questa nuova forma a questa nuova espressione sarebbe opportuno leggere tutto qui perché è interessante e comincia a apparire l'ironia del Manzoni dice chiunque senza essere pregato si intromette a rifarlo per altrui si espone a rendere uno stretto conto della sua e ne contrai in certo modo l'obbligazione e questa è una regola di fatto e di diritto alla quale non pretendiamo punto di sottrarci allora certamente i critici avrebbero potuto dire a Manzoni ma hai abbandonato una particolare forma espressiva a che diritto e tante avrebbero potuto essere le obiezioni Manzoni non ha nessuna intenzione di sottrarsi ma dobbiamo dirlo ad onore del vero non ci si presentò alla mente una critica che non le venisse insieme una risposta trionfante a ogni possibile critica a questo mio lavoro a questa rielaborazione io sono riuscito a dare una risposta e l'ho anche scritta ma al momento di arrivare al dunque quando siamo stati al punto di raccapezzare tutte le dette obiezioni e risposte per disporle con qualche ordine misericordia venivano a fare un libro quindi un libro che avrebbe potuto giustificare un altro libro un libro impiegato a giustificare un altro anzi lo stile di un altro non il contenuto perché il contenuto viene presentato per quello che è per quello che ha dato l'anonimo e lo stile che dovrebbe essere quindi un'opera strettamente di linguistica avrebbe detto Dante un testo teoretico di vulgari eloquenzia di nuovo giustificato nella prospettiva del diciannovesimo secolo ma dice Manzoni una cosa simile potrebbe parere cosa ridicola la seconda che di libri basta uno per volta quando non è d'avanza quindi in riferimento alle possibili critiche alle possibili osservazioni Manzoni a questo punto le tiene nella sua penna a volte scappa qualche cosa ma quel libro che avrebbe dovuto essere di giustificazione ai promessi sposi noi non abbiamo non abbiamo mai avuto ma conosciamo abbastanza con sicurezza e con sincerità il pensiero che Manzoni ha a proposito dello stile della lingua che avrebbe dovuto essere comunicata e proposta agli italiani vedete dunque un duplice scopo se non triplice se non quadruplice non c'è solamente l'aspetto utilitario come riflessione come capacità di cogliere l'umanità l'uomo nella sua nella sua debolezza nella sua fragilità nella sua grandezza ma allo stesso tempo nella sua piccolezza quindi un lavoro di ricerca profondo ma dall'altra parte abbiamo Manzoni che dice ma proviamo a conoscere la storia oggi di storia le conosciamo molto poco conosciamo le polemiche conosciamo una storia defraudata del vero una storia decapitata Manzoni come vedete va dietro ad una storia alternativa senza dimenticare la storia ufficiale quindi un altro obiettivo è proprio questo conosciamo la storia attraverso l'opera di Manzoni è il mezzo migliore migliore che quello di studiare sui testi di storia di conoscere i 600 come secondo me nel testo di Amicis cuore noi conosciamo perfettamente lo spirito dei maestri del governo negli anni dopo l'unità d'Italia 1860 70 80 come con Don Camillo troviamo il modo migliore e anche piacevole allo stesso tempo per conoscere il nostro dopoguerra laddove anche chi si trovava su ideali o ideologie contrapposte o molto differenti lavorava per costruire il bene comune non si contrapponeva come spesso fanno oggi i partiti e gli uomini di partito attenti soltanto alla propria sopravvivenza e al proprio interesse così attraverso i promessi sposi oltre a conoscere l'uomo Manzoni si propone di conoscere un secolo e il secolo è il 1600 io penso che chi vuole riflettere sul 600 e anche sulla sensibilità che allora era comune sia nel mondo dei semplici dei meccanici dice Manzoni anzi l'anonimo preso citato da Manzoni sia nel mondo intellettuale i promessi sposi sono una via d'obbligo per una conoscenza completa ma poi abbiamo un altro scopo in un obiettivo utilitaristico quello cioè di proporre una lingua proporre una lingua per questa Italia che si è trovata così dall'oggi al domani unita ecco noi abbiamo già colto alcune costanti già fa capolino l'ironia del Manzoni che non è mai sarcasmo è molto molto delicata e rispettosa con la prossima lezione vedremo il primo capitolo e dunque il passaggio che ci dà il contesto entro il quale si verrà a dipanare la storia dell'anonimo ripresa da Alessandro Manzoni l'anonimo